Il 2019 a Prato inizia l'insegna della cultura. Domani la rete Prato Musei e il Comune di Prato propongono nuovamente il biglietto d'ingresso a un euro a Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Musei di Ocesani, Centro Pecci e Museo di Scienze Planetarie che saranno aperti nel pomeriggio. Il nuovo anno porterà una novità importante per Prato Musei annunciata dall'assessore alla cultura Simone Mangani. Entro il mese di febbraio il bando unico per la gestione dei servizi museali di quattro musei, quindi tutti i musei tranne il Museo di Scienze Planetarie, per gestire assieme l'apertura, la chiusura, la pulizia, tutti i servizi accessori rispetto alla programmazione che ovviamente rimarrà invece in capo all'amministrazione comunale per quanto riguarda il pretorio, alla Fondazione Museo del Tessuto e alla Fondazione Pecci per quanto riguarda il Pecci. Altra novità importante del 2019 sarà il nuovo ingresso di Palazzo Pretorio. L'ingresso di Palazzo Pretorio sarà cambiato, oggetto di un cambiamento, torneremo al progetto originario di Gaia Olenti e pertanto l'ingresso sarà alle nostre spalle, in faccia alla Fontana del Bacchino e ci saranno le informazioni turistiche, il bookshop e la biglietteria, tutto assieme per un servizio integrato ai cittadini e ai turisti della nostra città. Tra pochi mesi chiude 5 anni di gestione culturale della città, come è cambiata la cultura con l'impronta mangane? Non credo ci sia un'impronta mangane, credo che questa città dovrebbe essere un po' più orgogliosa di quello che è riuscita a fare negli ultimi decenni e anche negli ultimi anni. Il 12 aprile 2014, dopo 17 anni, viene riaperto Palazzo Pretorio, due anni dopo viene riaperto il Centro per l'alte contemporaneo di UG Pecci, nel corso del 2019 sarà aperta la Galleria degli Alberti, grazie alla collaborazione con Banca Intesa. Abbiamo riallestito la Galleria di Palazzo Comunale, questa è testimonianza di una vivacità e di un patrimonio storicizzato che non è comune. Di questo patrimonio spesso noi siamo i primi a dimenticarci.